Gli italiani vogliono essere imprenditori di se stessi. 7 su 10 promuovono le imprese in proprio. Un dato, fornito dal rapporto 2013 di Amway, azienda leader mondiale nel settore della vendita diretta, in calo rispetto al 2012, come diretta conseguenza della crisi, ma in linea con la media europea. I dati che abbiamo riscontrato sono estremamente positivi perché comunque il 69% degli italiani, quasi 7 su 10, sono favorevoli all'autoimprenditorietà e molto più interessante, il 41% si vede capace di intraprendere e questo è il dato che veramente ci fa sperare molto bene. Sono i giovani sotto i 30 anni quelli che hanno un atteggiamento particolarmente positivo, sono il 78%. Interessante anche la risposta delle donne, il 48%. Sono risultati di giovani soprattutto, ma anche di italiani in genere, che si collocano sulla media europea per quanto riguarda la propensione a intraprendere. La propensione riguarda due cose, riguarda la disponibilità a mettersi in gioco e anche la capacità di capire come farlo e di farlo nel settore giusto. Nota dolente resta il contesto. Quasi un italiano su quattro, infatti, considera l'Italia decisamente ostile nei confronti dell'imprenditorialità. Si vede molto chiaramente che gli italiani, in modo particolare i giovani, che sono i più propensi tutti a intraprendere, hanno paura, hanno paura di fallire. Addirittura il dato è del 91%, quindi un dato altissimo rispetto a una media europea del 73%. E cosa c'è dietro questa paura di fallire? La crisi economica è il punto numero uno.